Se lei dice così, smonta tutto quello che ha detto Salvini. E quindi è quello che non riesco a concepire. No, ma io credo che in realtà questo problema riguardi non tanto i rapporti tra la maggioranza e l'opposizione, ma i rapporti all'interno della maggioranza. C'è un Movimento 5 Stelle che evidentemente ha paura di abbandonare una linea che aveva condiviso con Salvini e che è una linea che oggi viene guardata almeno da una parte con nostalgia o con timore di abbandonarla perché si teme che altrimenti l'ombra di Salvini ritorni e possa danneggiare i 5 Stelle. Cioè poter dare acqua al mulino di Salvini, elementi... Sì, perché poi non è vero che nel 2018 Sergio Mattarella, il capo dello Stato, si inventò una maggioranza di due forze totalmente agli antipodi. Erano due forze emerse con ottimi risultati su tutti i 5 Stelle che avevano in comune di essere antisistema. Quindi c'era questa componente antisistema ed eurofobica che accomunava Lega e Movimento 5 Stelle. Poi è andata come è andata, ma in realtà... Ma domani modificano secondo te? Io penso che proveranno a modificare perché a un certo punto credo che Conte dovrà in qualche modo dare qualcosa al Partito Democratico. Ma certamente questo comporterà un prezzo pesante per i 5 Stelle che essendo molto in crisi di identità scaricheranno anche su questo i loro problemi. Grazie.